La comunità di Montecorice piange la scomparsa di Franco Giannella. Nel tardo pomeriggio di ieri si è accasciato al suolo in località Pistacchio, vicino al centro costiero di Agnone, mentre percorreva la via del mare. Franco era sul suo motorino. Molto probabilmente un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi che sono giunti sul posto, purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'amministrazione di Montecorice lo ricorda con grande affetto. Franco Giannella, oltre che un funzionario instancabile del comune di Montecorice per 40 anni, durante i quali ha ricoperto i ruoli fondamentali di ragioniere comunale e di comandante della polizia municipale, vantando il primato di non aver mai usufruito e chiesto un solo giorno di ferie perché, a suo dire, lavorare a servizio della collettività non era un peso ma un piacere, come amava spesso ripeterci. Franco è stata una persona che alla sua comunità ha donato anche il tempo che avrebbe potuto dedicare interamente a se stesso, godendosi la meritata pensione. Invece, chi non lo ricorda, in giro per il nostro territorio armato di pinze e sacchetto per rimediare all'inciviltà di chi abbandonava cartacce, mozziconi e quant'altro lungo le ripe rosse o sui nostri litorali, al punto da insignirlo di un premio speciale, qualche anno fa, per la sua sensibilità ambientale e per il suo alto senso civico che ha contraddistinto tutta la sua carriera e la sua vita? Solo pochi giorni fa si stava interessando di un'operazione di disinfestazione di formiche sulla piazza Padre Pio a San Nicola per permettere la celebrazione della consueta messa del sabato pomeriggio a testimonianza di uno spirito sempre al servizio del prossimo e della sua comunità. Giungano a nome di tutto il Consiglio Comunale, di tutti i dipendenti, anche di chi non è più in servizio, ma lo ricorda con struggente affetto, nell'ufficio Polizia Municipale per aver lavorato a stretto contatto con lui e di tutta la cittadinanza le più sincere ed accorate condoglianze ai figli Domenico, Ottavio e Stefania Giannella. Volevamo tutti davvero molto bene a Franco. I funerali si svolgeranno questa sera alle ore 19.30 in piazza Padre Pio in San Nicola a Mare.